Dobbiamo impegnarci tutti insieme contro il razzismo e dobbiamo farlo consapevoli che lavorare per una vera integrazione è importante per il futuro delle nostre comunità e per le stesse prospettive dell'Europa unita. Ci sono molti giovani nati qui a Bologna e quali non viene riconosciuta la cittadinanza, è importantissimo invece riconoscere questi diritti in modo che i giovani delle nostre città possano costruire insieme un futuro migliore. L'amministrazione comunale è molto impegnata sui temi della lotta alle discriminazioni a cominciare da quelle razziali, ha attivato una rete di comunità per intervenire su questi temi con la consapevolezza che sottovalutare i temi dell'integrazione significa non correggere gli errori quando nascono. Il passato ci ha insegnato che non dobbiamo essere disarmati di fronte a fenomeni di xenofobia o di intolleranza, ma immediatamente intervenire come opinione pubblica contro ogni tentativo di riportarci al passato.